Questa sera siamo qui in questo scorcio meraviglioso del centro storico di Grottaglie, per la precisione in questo cortile privato perché stiamo organizzando un evento del cuore, un evento particolare. Il nostro sposo dell'8 giugno Alberto ci ha chiesto di provvedere a ideare questa serata particolare a sorpresa per la sua Nancy e le dedicherà una bellissima serenata. Ne vedremo delle belle! NENETI! 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 Eccola! NENETI! 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 Grazie per la visione!